Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Oggi sono stati eseguiti i tamponi per rilevare eventuali positivi al Covid-19 sulla nave Costa Magica. Approvata ieri ad Ancona con 617 membri dell'equipaggio. A bordo riferisce il responsabile Gores Mario Caroli. Il clima è sereno, non ci sono criticità né sanitarie né psicologiche, l'umore è buono. Nella pomeriggio i primi 146 test sul personale sanitario della nave e su altri 140 dello staff risultati positivi a un test rapido. I tamponi verranno eseguiti a tutto l'equipaggio entro sabato per avere un quadro completo entro il 3-4 maggio. Seguendo le priorità indicate da Costa, in base alla disponibilità di voli o altri mezzi per portare a casa i negativi. E adesso torniamo a Fano, all'ospedale Santa Croce, dove è stato eseguito un prelievo multiplo di organi. Un'operazione molto delicata a vista l'attuale emergenza coronavirus. Il servizio di Francesco Salvago. Primo prelievo multiorgano a Marche Nord dall'inizio dell'anno durante l'emergenza covid. I familiari di un paziente di 68 anni ricoverato e deceduto in rianimazione lunedì scorso hanno acconsentito alla donazione degli organi. Lunedì nel pomeriggio sono iniziate le procedure di accertamento. L'attività di prelievo è iniziata nella mattinata di ieri e si è svolta nel blocco operatorio del presidio Santa Croce di Fano degli ospedali riuniti Marche Nord, dove era pronta un'equip di professionisti interamente dedicata. Le procedure per il prelievo degli organi sono molto delicate, spiega il direttore sanitario di Marche Nord, Edoardo Berselli. E durante l'emergenza covid l'attenzione deve essere massima, non solo per l'utilizzo dell'equip specializzata, ma anche per l'organizzazione dei percorsi sicuri e il periodo di attesa per i risultati dei due tamponi. Le procedure medico-legali inerenti all'accertamento della morte cerebrale, quelle organizzative relative al prelievo e trasporto degli organi e la verifica clinica dell'idoneità degli organi al trapianto. L'attesa dei due tamponi negativi sono state condotte dal collegio medico composto dai professionisti della rianimazione, della neurologia, dell'anatomia patologica e della direzione medica del presidio, in collaborazione con il personale medico infermieristico della rianimazione del blocco operatorio. Il collegio medico e l'equip esterne intervenute per il prelievo di organi hanno effettuato le procedure per il prelievo e la donazione degli stessi. E nelle Marche tutti i farmaci per i trapiantati saranno disponibili nella propria farmacia di riferimento. Si tratta di medicinali salvavita, già in distribuzione diretta, unicamente nelle farmacie delle strutture ospedaliere Asur Marche, ora disponibili in quelle di prossimità presentando la ricetta elettronica. Lo ha disposto una deliberazione della giunta regionale del 20 aprile. Le nuove misure del governo hanno scatenato l'ira di baristi e ristoratori di tutta Italia. A Fano questa mattina una ventina di rappresentanti della categoria hanno consegnato simbolicamente al sindaco Massimo Seri oltre 150 chiavi dei vari locali della città. C'era per noi Lino Balestra. Stamattina migliaia di operatori del settore oreca, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie o che somministrano bevande ed alimenti in tutta Italia hanno virtualmente consegnato le chiavi dei loro locali al sindaco delle loro città. Tutto è partito alcuni giorni fa da commenti e considerazioni dei gestori sulla loro condizione e da lì in poi è stato un fiume in piena di adesioni. Ieri sera al Flash Mob organizzato a livello nazionale con l'accensione delle insegne e dei locali ed una tavola imbandita hanno aderito quasi 200.000 persone. Da nord a sud lo testimoniano le tante foto scattate pubblicate con l'hashtag Risorgiamo Italia. E questa mattina consegna di una chiave con bigliettino da visita al sindaco in tantissime città anche con connotazioni eloquenti per dire che il settore sta ormai morendo. Chiaramente non ci aspettavamo un'attività che ci ha portato ad avere tutta questa aggregazione che è stata una cosa veramente meravigliosa. Siamo stati fino alle due di notte anche per capire cosa avevamo fatto. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo capito che abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Non debba accadere che oltre il danno enorme ci sia una grande beffa perché quello che chiediamo tutti qui chiacchierando e confrontandoci tutti i giorni per i motivi che sappiamo imprenditoriali quindi economici che diventano anche un disastro sociale non deve essere assolutamente un ritardo. Noi non possiamo più aspettare, abbiamo aspettato fin troppo. Quindi ad oggi ci aspettiamo che nell'arco di qualche ora, qualche giorno arrivino i risultati, i fatti e non più le promesse. Nelle mani di serie dell'assessore Luca Relli una delegazione di 15 operatori in rappresentanza degli operatori. Il corteo con oltre un centinaio di presenze non è stato autorizzato dalla prefettura per ovvie ragioni di sicurezza. Sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine sono state consegnate 117 chiavi, 47 di bar e pasticceria, 60 ristoratori e una decina di altri operatori tra cui due spiagge e bed and breakfast. Questo evento è per richiamare fortemente l'attenzione di tutti coloro che hanno responsabilità. L'altro elemento che emerge e che è un problema che sentiamo anche noi come sindaci e proprio oggi ho un incontro con i colleghi della regione Marche sono le certezze. Cioè avere le certezze sulle tempistiche, avere le certezze sulle regole in cui operare. È importante per chi deve ripartire, è importante per noi che dobbiamo anche aiutare e creare le condizioni anche con delle scelte a carattere locale e amministrativo. Penso soltanto a quello che riguarda la superficie e il suolo pubblico. Se gli spazi devono essere aumentati per consentire, come giusto che sia, le sicurezze è importante che noi abbiamo questi elementi. Proprio per questo stiamo anche facendo un lavoro a livello locale pensando a dei protocolli proprio per rendere più sicura e tranquilla la gente in modo tale che possano tutti ripartire e fare anche quella quotidianità e fare quelle attività con serenità e gustarsi anche quella che sarà la ripresa. Ne ha bisogno la gente, ne ha bisogno il Paese nelle sue articolazioni. E grazie all'approvazione in Consiglio regionale di una risoluzione nata da una mozione del Vice Presidente Renato Claudio Minardi, il sistema economico marchigiano in crisi per l'emergenza Covid-19 potrà contare su oltre 150 milioni di euro, risorse che la Regione Marche si impegna a stanziare. Sono risorse importanti, dichiara Minardi, che serviranno per sostenere la liquidità e abbattere i costi fissi di imprese, professionisti e famiglie, anche con contributi a fondo perduto. La Giunta si impegna a intervenire su due settori, quello economico produttivo e il settore del turismo per ridurre del 50% il canone concessorio per la stagione 2020, se questa inizierà dopo il 1 luglio. Inoltre ridurre l'IVA dal 22 al 10% per le attività e servizi turistici, misure di detassazione per promuovere le vacanze in Italia e contributi per sanificare le attrezzature. Sul sito del Comune di Fano invece è stato pubblicato il bando di gara per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fano. L'importo progettuale complessivo ammonta a 2.135.000 euro e viene coperto interamente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. L'importo dei lavori appaltati, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a oltre 1.800.000 euro. Le offerte ed eredite interessate dovranno pervenire entro il prossimo 4 giugno. L'estensione del lotto sul quale sorgerà la nuova caserma è interamente di proprietà comunale per un totale di 6.400 metri quadrati. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio con due corpi di fabbrica collegati tra loro. Quello principale contiene gli spazi necessari al funzionamento del distaccamento, quindi uffici, sei camere con tre posti letto, servizi. L'altro ospiterà un'autorimessa per una dozzina di mezzi di soccorso. Il complesso sarà dotato di un grande piazzale dove saranno ubicati anche l'aria per il rifornimento e il lavaggio dei mezzi. Ieri per la prima volta il Consiglio Comunale di Vallefoglia si è riunito in videoconferenza da tanti temi trattati come la fusione dei comuni, il teatro, ma anche la cura del verde e dei cimiteri che è stata affidata ad Aspes. Ieri è stata una giornata abbastanza intensa, prima la giunta dell'Unione dei Comuni che ha fissato la data del 13 per il prossimo Consiglio dell'Unione, poi il Consiglio Comunale è importante, in videoconferenza, la prima volta nella storia della città di Vallefoglia e un consiglio in cui abbiamo affidato ad Aspes la gestione dei servizi di disinfestazione del territorio nel periodo estivo e disinfestazione in generale e poi di affidamento della gestione per questa legislatura della manutenzione dei parchi, dei giardini, del verde, della potatura delle piante, dei cimiteri e poi delle variazioni di bilancio dove abbiamo introittato delle risorse per la risoluzione del teatro di Sant'Angelo dell'Isola per 160.000 euro, 20.000 euro per il museo per Ticari, sempre la chiesa di Sant'Angelo dell'Isola, circa 90.000 euro per la sistemazione di alcuni movimenti franosi al campo sportivo di Sant'Angelo dell'Isola, e poi diciamo quasi 120.000 euro del fondo della regione che ringraziamo per la fusione dei comuni. Quindi abbiamo avuto circa 30.000 euro della Stato per la sanificazione della vicenda della pandemia. C'è stato in questi ultimi 15 giorni un forte contenimento dei decessi, c'è stato un forte contenimento dei ricoveri ospedalieri, occorre ovviamente non abbassare la guardia. Il prossimo Consiglio Comunale sarà verso la fine di maggio e il Consiglio Comunale, dato che hanno spostato anche i termini per il consultivo del 2019, entra la fine di maggio. L'Unione si terrà il mercoledì 13. E a quelli al Metauro la distribuzione di mascherina viene in auto. Il territorio comunale è stato infatti diviso in sette zone, i residenti potranno recarsi nel punto di distribuzione nel giorno indicato nella tabella, che troverete anche nel nostro sito occhioallanotizia.it. Si potrà accedere esclusivamente in auto per evitare contatti con altre persone, è vietato scendere dal proprio veicolo perché le mascherine verranno consegnate dai volontari della protezione civile attraverso il finestrino e in caso di impossibilità recarsi nei centri di distribuzione si può incaricare al ritiro un familiare oppure si può richiedere la consegna a domicilio telefonando al numero del COC. A Pesaro invece arrivano ulteriori 25.000 mascherine gratuite per anziani, malati e persone in difficoltà economica. Lo comunica il sindaco Matteo Ricci. I dispositivi potranno essere ritirati nel proprio quartiere di appartenenza. Inoltre in queste ore si sta completando la distribuzione delle mascherine porta a porta in tutta la città ultimando la consegna nel quartiere centro. E sulle mascherine oggi è intervenuto il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini. Ho ricevuto da alcuni medici la richiesta di richiamare l'attenzione dei cittadini sull'opportunità di non usare mascherine con valvola, visto che non impediscono la diffusione del virus ma si limitano a proteggere solo chi le indossa. Si vedono sempre più persone in giro con queste mascherine, ha detto Paolini, ma come mi hanno spiegato i medici, se un asintomatico con Covid-19 la indossa, proprio attraverso questa valvola diffonde all'esterno il virus di cui è portatore. Sarebbe opportuno dunque che venissero usati gli altri tipi di mascherine chirurgiche, che sono protettive per gli altri e quindi per tutti se usate in massa, oppure FFP2 e FFP3 senza valvola, protettive per sé e per gli altri. Cambiamo argomento, sono ancora tante le bufale sul coronavirus che circolano in rete, e cinque sono quelle smentite questa settimana dal Ministero della Salute. Dalle presunte terapie fai-da-te alle false autodichiarazioni. Sono tante, troppe le notizie false che circolano sul Covid-19. Viaggiano attraverso diversi canali, media e social, dove non sempre i gestori delle piattaforme riescono a filtrarle, nonostante i tentativi. Molto utilizzato anche WhatsApp. Qui audio di ogni genere vengono condivisi senza alcuna verifica da parte degli utenti. Non solo, l'eccesso di informazioni crea molta confusione, a volte anche allarmismi, e non aiuta i cittadini a comprendere ciò che sta accadendo. Si finisce così per abbracciare le versioni che si ritengono più convincenti. La disinformazione, però, è sempre da combattere, perché può indurre le persone ad adottare comportamenti non corretti. Quando poi questo accade in un ambito delicato come quello della salute, le conseguenze possono essere ancora più gravi. La situazione di certo non è semplice, ma richiede uno sforzo maggiore da parte di tutti. In che modo? Innanzitutto è necessario affidarsi ai fatti e ai dati riportati dagli esperti e dalla scienza, titolati a parlarci di questo nuovo coronavirus. Nel frattempo, oltre alle campagne di comunicazione, prosegue l'attività del Ministero della Salute per scovare le fake news e riportarle sul sito salute.gov.it. Cinque sono le bufale smentite questa settimana. La prima, bere alcol rinforza il sistema immunitario e mi protegge dal virus. Falso, il consumo di alcol non protegge da Covid-19 e non impedisce di essere infettati. Al contrario, il rischio di infezione è maggiore, perché l'alcol indebolisce il sistema immunitario e quindi riduce la capacità dell'organismo di fronteggiare le malattie infettive. La seconda, applicare la vasellina intorno alle narici, intrappola il virus così non entra nel naso. Anche questa notizia è falsa. Non ci sono prove che il virus resti intrappolato dalla vasellina. Per evitare il contagio è necessario rispettare le distanze di sicurezza e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate o disinfettate. Terza bufala. Mangiare carboidrati come pane e pasta aumenta il rischio di contrarre l'infezione. Anche qui non ci sono evidenze scientifiche che il consumo di carboidrati esponga maggiormente all'infezione. Un'alimentazione bilanciata è comunque importante per il benessere di ogni individuo e la prevenzione di molte malattie. Si è detto poi che respirare aria calda dall'asciugacapelli elimina il virus dalla gola per chi con il caldo muore. Falsa anche questa informazione. Infatti l'aria del FON non può raggiungere le elevate temperature a cui il virus muore. Si otterrebbe solamente un'irritazione delle mucose e si rischierebbero ustioni. L'ultima fake news riguarda invece l'argento colloidale, un disinfettante che proteggerebbe dal covid. Al momento non esiste alcuno studio scientifico che provi l'effetto protettivo di questo composto liquido nei confronti del virus. E' quindi bene tenere presente che le uniche notizie certe e attendibili in materia vadano cercate sui siti istituzionali come l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non restate a informarsi sulla veridicità delle notizie per evitare che si propaghino creando inutili ansie, fantomatiche rassicurazioni o ancora peggio ulteriori problemi di salute. E adesso torniamo a parlare dell'iniziativa Una mano per il Santa Croce perché è arrivata a circa 7.500 euro la raccolta fondi destinata all'acquisto di attrezzature e presidi medici di prima necessità da destinare all'ospedale cittadino e promossa dalla Confcommercio di Fano. Un buon risultato che contiamo di incrementare questi giorni, commenta il segretario Marco Arzeni. Pensiamo di chiudere la campagna delle donazioni nella prima settimana di maggio. Arzeni ha poi ringraziato tutte le aziende e i privati cittadini che hanno dato il proprio contributo. Più avanti spiegheranno in che modo verranno impiegate le risorse dopo i contatti con i dirigenti dell'Asur per capire le necessità del nosocomio fanese. E adesso rimaniamo a Fano. Nel pomeriggio di ieri la parafarmacia My Pharma di Via della Bazzia ha donato al centro residenziale comunale per anziani Don Paolo Tonucci di San Lazzaro una fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e il personale composta da mascherine chirurgiche e visiere protettive. La consegna è avvenuta alla presenza del vice sindaco con delega alla protezione civile Cristian Fanesi. Non è la prima volta che dei privati compiono gesti di solidarietà in favore della Don Tonucci. In precedenza anche lo stabilimento Azimut Benetti di Fano aveva donato dei presidi di protezione individuale. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'informazione torna domani mattina con la nostra rassegna stampa. Arrivederci. L'informazione torna domani mattina con la nostra rassegna stampa.